la presa in carico è un concetto molto molto complesso che è fatto di tanti tanti elementi chiaramente c'è un sono almeno due temi che vanno tenute presente uno è come la remuneriamo e qui le esperienze che sono in giro per il mondo ci dicono che bisogna evitare i pagamenti a prestazione bisogna andare verso forme cosiddette bundled di pagamento quindi mettendo insieme le prestazioni in qualche maniera trasferendo in parte il rischio e il secondo invece il secondo tema è in quale assetto istituzionale questo avviene perché è evidente che una cosa è pensare un pagamento quasi capitario su soggetti for profit che operano sul mercato altro è trasferire quelle quote dei soggetti pubblici questa questa parte del disegno una parte più complicata su cui ancora non mi sembra che ci siano ancora le idee molto molto chiare andranno chiarite strada facendo grazie a tutti grazie a tutti